La Casa Dritta di Arezzo, ancora al centro delle politiche familiari, sabato 14 ottobre si terrà infatti un seminario di formazione dal titolo Adozione e affido, lungo percorso di crescita. Un'occasione anche per presentare il progetto La sinergia delle risorse, finanziato dal CESVOT che nasce dalla collaborazione delle associazioni del territorio che si occupano di minori in difficoltà. È un progetto intelligente che tiene insieme un'associazione che da tempo si occupa di sensibilizzare l'affidamento e l'adozione e i ragazzi delle scuole, in questo caso del liceo classico musicale, che insieme fanno un percorso che mette in sinergia le risorse per sensibilizzare all'importante tema dell'adozione e dell'affido. È una delle strategie fondamentali di questa giunta per valorizzare un aspetto che è quello della importanza per una comunità di essere più attenta, più sensibile, più pronta, più disponibile, più aperta al percorso difficile ma straordinario delle adozioni e degli affidi. Sul tema dell'affidamento familiare e in questo caso si parlerà dell'affidamento Sinedie e dell'adozione, è veramente indispensabile una sinergia di tutte le risorse. Le risorse sono intanto le istituzioni, poi del volontariato perché le famiglie sia affidatarie che adottive sono espressione della comunità e nel caso poi specifico di questo progetto c'è anche la componente della scuola perché saranno protagonisti attivi nella realizzazione del progetto gli studenti dei percorsi dei progetti scuola-lavoro. Il progetto prevede anche uno sportello sull'affidamento e sull'adozione che aprirà venerdì 20 ottobre e sarà attivo il martedì pomeriggio presso gli spazi della Casa Dritta. Che sarà gestito da ragazzi appartenenti all'esperienza di lavoro con la scuola che saranno sempre seguiti da un professionista. L'informazione non sarà solo per le persone che desiderano avere informazioni sull'affido ma anche informazioni di carattere più ampio, quindi quali attività ci possono essere per i ragazzi a livello di formazione e di orientamento sia per i ragazzi affidati che adottati.